Siamo in un luogo che è patrimonio dell'umanità, ma l'attesa che sta per tagliare il traguardo è un patrimonio dello sport mondiale. Incidiamo il grande protagonista, il dominatore dello Giro d'Italia. Arriva da Messina, la sua maglia rosa si chiama Vincenzo Liguali. E' l'ordine del Giro d'Italia. Vincenzo Liguali! Bravo! E' attenzione per quanto riguarda il secondo posto, il secondo posto è appagliato di quarte su Rigoverno Ura, e quindi il carro si è aperto di Tancura in quarta posizione. Non buttarti! Non lo metto, cazzo! Non lo metto, cazzo! Non lo metto, che sta buttando! Rigoverno Ura, che sono in base a l'attenzione per il primo posto, che sono in grado di Qadda. Anche i colleghi, a traguardo, arriva Groglio Haru, quindi arriva il campione di migliore, Canco Pericoloka, e il secondo posto è un segno di Torino. Hanno Giro, cazzo! E' attenzione per il gruppo di patro, come nel comporto vivo, per gli altri colleghi. Brav Nacho! Una regista! Bravo! Bravo, Luccaruso! Arriva! Ci rivolga, è presto, è presto, è presto, è presto. Grazie a tutti.